La modalità più veloce per accedere alla dashboard di Ranking Coach è attraverso l'area clienti, autenticandoti con il tuo account Aruba. Per farlo, collegati alla pagina managehosting.aruba.it. Inserisci lo username Aruba, la password e accedi. Clicca su gestisci in corrispondenza del dominio a cui è associato il servizio e poi su servizi aggiuntivi. Nella pagina che si apre, visualizza il box relativo al servizio Ranking Coach e clicca su accedi alla dashboard. Grazie per la visione!